Radio Radicale, siamo con Luigi Cantamessa che oggi presenta insieme a Stefano Maggi qui alla libreria Feltrinelli un libro molto importante che riguarda Pietrarza da officina a Museo Ferroviario. Allora, che cos'è Pietrarza e che cosa ha significato per la storia delle ferrovie italiane e che cosa è stato recuperato? Pietrarza è il luogo della memoria delle ferrovie italiane, dove tutto è iniziato. Dove si trova? In che provincia? Tra Napoli e Portici. Dove nacque la prima ferrovia italiana. Infatti Pietrarza sorge al mezzo di questi sette chilometri che nel 1839 al Borbone iniziò come piccolo tronco iniziale di quella che poi diventerà l'avventura ferroviaria delle ferrovie prima borboniche e poi ferrovie dello Stato. Tutto a Pietrarza è nato, luogo meraviglioso di fronte a Capri, alle spalle del Vesuvio, un investimento complessivo delle ferrovie per recuperarlo dall'abbandono nel quale era versato negli anni 90 di circa 20 milioni oggi è luogo di cultura ferroviaria aperto a ogni tipo di evento culturale. Quindi presentazioni, eventi sulla storia delle ferrovie, libri di ogni genere. Addirittura si configura Pietrarza oggi come il centro convenistico più grande del Mediterraneo. Mille posti a sedere tra due ali di locomotive a vapore. E che dire, è una cosa talmente bella che purtroppo oggi è ancora poco conosciuta. Da qui il motivo di questo libro. Allora, le volevo chiedere questo. Quanto è stata importante la nascita delle ferrovie per l'unità d'Italia? Allora, sono nate, lei parlava del regno dei Borboni, lo Stato Pontificio aveva fatto tanto, aveva concluso la Roma Ancona poco prima del 1870. Io le volevo chiedere diciamo quanto ha contribuito ad unire il paese prima dell'avvento della televisione? Ma io le rispondo che pochi elementi sono stati unitivi per le province italiane come le ferrovie. lo sono state prima di tutto, se ci pensiamo, le poste, l'esercito e la carta stampata. Solo che a differenza degli altri le ferrovie hanno trasportato cose e persone e per la prima volta la congiunzione di quei rami ferroviari concepiti in epoca preunitaria e poi rettificati come grandi dorsali hanno concesso agli italiani ad esempio della Calabria per la prima volta arrivare a Roma in un giorno o una notte di viaggio. E addirittura nella ricostruzione post bellica, importante fattore, le fabbriche della Mirafiori di Torino o Porto Marghera Venezia o la Breda di Sesto San Giovanni sono state riempite dagli operai che da ogni provincia della Sicilia e della Puglia arrivavano ogni mattina con quei treni della Speranza, le famose frecce del sud. La ricostruzione quindi, l'unità quindi, carrozze che avevano alla data del 1861, quando l'Italia è diventata stato formalmente standard diversi e poi al 1883 con il riordino delle prime concessioni già gli standard delle carrozze e delle locomotive erano diventati uguali. Sento l'ultima cosa, oltre al museo le ferrovie dovrebbero recuperare la loro memoria storica attraverso le linee che sono abbandonate potrebbero essere recuperate, avrebbe anche una funzione turistica questo? Io le parlo per esempio della Pesaro Urbino che era un piccolo gioiello ma di tante altre? Non solo sono pienamente concorde con quello che mi chiede, prima di tutto perché fatta l'alta velocità che tiene in piedi l'impalcato industriale del paese abbiamo fatto il sistema arterioso, ma il sistema venoso, sono le piccole linee di provincia e ricordiamoci che i rami secchi sono purtroppo una, lo dico, errata decisione politica degli anni 60 in cui si pensava di andare ovunque con l'autobus. La fondazione FS in 8 anni ha riaperto 1000 chilometri di ferrovie, la Pesaro Urbino purtroppo non è compresa tra questa ma tutti la ricordiamo da Fermignano, l'inversione per Urbino, oggi il binario è lì, coperto dalle erbacce e io credo che l'attenzione programmatoria delle ferrovie, oltre alle grandi opere, debba tornare a queste ferrovie di provincia in scopo turistico oppure sostenibile. Grazie a Luigi Cantamessa per aver parlato del libro di Stefano Maggi, Pietrarza da Officina Museo Ferroviario, grazie. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale.